Il mio pensiero rispetto alla relazione tra arte e politica per me non è semplice di articolarlo. Credo comunque che l'arte abbia una funzione politica nella misura in cui incontra l'altro, nella misura in cui riesce a muovere il pensiero di chi la riceve. Il pensiero è la sensibilità di chi la riceve.